Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi voglio presentare Death Watch Overkill, un gioco della GV interamente fuori edizione Penso che non ci trovi più però poi ne parliamo nel corso di video, vi spiego un po' Come vedete vecchia edizione del Warhammer 40.000 e si riconosce anche dal logo sulla scatola e ai lati Non è la stessa dell'ultimo Indomitus Gioco molto interessante, gioco competitivo, quindi una specie di diretta evoluzione di Space Hulk Che lo sapete ve lo ridico ancora una volta il mio gioco in assoluto preferito della GV Ma ve ne parlo a breve dopo la sigla Ragazzi premetto subito, al solito mi scuso, spero non si senta ma dovrebbe essere abbastanza silenziosa Se sentite un rumore meccanico sono le nostre stampanti sia LCD che affilamento in funzione giorno e notte Anche perché ci lavoriamo è il nostro lavoro e quindi stanno a stampare per ordine ai clienti quasi tutto il giorno Quindi scusateci Death Watch Overkill, come vi ho detto, ultima edizione di Warhammer 40.000 Che poi fondamentalmente con le regole c'entra poco o niente, è proprio un gioco a parte È un gioco della Games Workshop che abbiamo acquistato dallo shop del nostro sito collaboratore e sponsor Gioco Libreria Semola che io ringrazio di cuore ovviamente per averci fornito questa copia qui Ripeto, come dite all'inizio del video prima della sigla, dovrebbe essere fuori edizione Comunque, non lo so, magari c'è ancora qualche copia di magazzino Voi andate sul sito, come vedete in sovraimpressione e primo link in descrizione Della gioco Libreria Semola e chiedete magari se ne è ancora una copia o se riesce a trovarlo Questo gioco è molto bello e come detto è non tanto una diretta evoluzione Perché forse c'è l'idea di nemmeno le meccaniche, l'idea di base ricorda un po' Space Hulk C'è un gruppo di marine che in questo caso qui non sono i Blood Angel I Terminator Blood Angel, vi ricordate come avete visto anche in Space Hulk che vi ho portato sul canale Famosissimo e bellissimo, lo adoro Ma questa volta fate parte appunto della Death Watch La Death Watch è il capitolo d'elite del Lord Oxeno Appunto è un'ambientazione Grammar 40.000 dell'Imperium Laddove sono tutti quanti Space Marine presi dai capitoli Quindi ci potrebbe essere uno Space Wolf, una Salamandra, un Blood Angel, un Ultramarine Tutti quanti ai migliori esponenti, ai migliori soldati, appunto ai migliori Space Marine Viene proposto di entrare non a tutti magari nella Death Watch E anche lì possano accettare o meno Diciamo che è un capitolo completamente dedicato alla distruzione e purazione di tutte le razze aliene In Warhammer 40.000 le razze aliene sono quelli che non sono umani o Astartes Quindi tutto il resto, Elda, Rorkey, sono tutti quanti Xeno Soprattutto Jane Stealer e il culto dei tiranidi E sono chiamati a fare queste missioni In questo gioco è bello perché ricorda la meccanica di base un po' di Space Hulk Abbiamo una unità della Death Watch che cambia missione dopo missione Potete andarla a comporre voi stessi Almeno che la missione, come vedete qui davanti, il librettino non vi dica esattamente che miniature dovete andare a utilizzare E dovete andare a liberare delle zone Ambientate in un pianeta, sottoterra in questa miniera Dove praticamente è stato avvistato un culto dei Jane Stealer Che voi dovete completamente distruggere E perché? Poi ve lo spiego un pochino Perché vi ho detto che ricorda abbastanza da vicino Space Hulk Perché in Space Hulk, vi ricordate, ci si muoveva in questi Hulk Sperse nel warp o anche leggermente fuori Con queste squadre di Terminator nei corridoi E poi non c'era il discorso della, non tanto della gittata delle armi Anche perché potevi tirare se vedevi A parte il lanciafiamme, armi del genere Però non c'era la classica goccia, il misurino delle unità imperiali Qui invece sì, abbiamo il ritorno del misurino classico di Warhammer Di Warhammer 40.000 E quelli che abbiamo poi come nemici sul campo Che vi faccio vedere un po' ora qui nella scatola Sono tutti montati, non dipinti, ve li faremo vedere Appunto i Genestealer tirandi e cose varie C'è anche un Broodlord che è veramente la fine del mondo Vi faccio, vi spiego un pochino ovviamente l'idea di come funziona Prima di tutto, unboxing Ragazzi vi facciamo un unboxing un po' così Anche perché la scatola l'abbiamo utilizzata per Mia moglie ha montato tutte quante le miniature Per tenerceli dentro perché lo spazio è quello che è Comunque vabbè, dadi da 6 Carte, agguato e azzardo Che sono quelle che usa il giocatore che muove il culto dei Genestealer E poi di qua vedete tutte quante le carte Tipo il Broodlord e tutti gli altri Versione ferito e versione curata Quaggiù c'è un cattivissimo Space Marine Che dovrebbe essere quello in moto Poi qui accanto vedete ci sono tutti quanti i tile Che ora tanto vi facciamo vedere aperti E poi tutto quanto il parco miniature Che sono veramente ragazzi tantissime C'è un valore di miniature di 150 euro Dentro la scatola solo di miniature 150 euro più il resto E la scatola dovrebbe venire sui 120 Insomma qualcosa del genere Ovviamente spettacolare E abbiamo un po' di Space Marine Della appunto ve l'ho detto Della Death Watch Che sono spettacolari Ce n'è tipo uno col jetpack Un altro da corpo a corpo Con gli artigli potenziati Un cattivissimo Broodlord Eccolo qui Questo è veramente spettacolare come miniature E poi è bello che sta tutto piegato Tra l'altro c'è anche delle arti psioniche C'è anche degli attacchi psionici Bellissimo Poi abbiamo un altro della Death Watch Su moto Con un falco robotico che lo segue Questo è veramente spettacolare E poi ne abbiamo tanti altri Un Dark Angel Un Salamander e quant'altro E quelli del cult Vedete ci sono Subumani di vari livelli Perché ovviamente è lo stadio Con cui si è stato corrotto Dal genede appunto di Jane Stealer Questo qui è un livello ultimo Ovvero un puro sangue E poi ci sono vedete Degli libri di vari Più dei libri dati Che dovrebbero essere tipo Livello 3 o livello 4 Che sono quelli ormai Praticamente DNA Umano e Jane Stealer Fuso completamente Che sanno anche usare armi da fuoco Quindi la componentistica È veramente spettacolare E poi c'è il manuale Il regolamento Che è di una cavolata Veramente disumana E tra l'altro Tradotto veramente molto bene E c'è anche tanto 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 da leggere In qualità di lore Bellissimo Spiegandovi velocemente Un po' le regole Ma alla fine c'è poco da spiegare Ogni personaggio Ha delle caratteristiche Un'equipaggiamento Andiamo ad esempio Da un classico Space Marine Della Death Watch Con il jetpack Che può volare Quindi può fare attacchi Dall'alto È più veloce A spostarsi sul campo Ed è armato Vedete Una salamandra Sì c'è il simbolo Qui sulla spallerina Un Terminator Guardatela Uno Space Marine Terminator Con un Penso sia un Requiem Attaccato sotto il braccio E un lanciafiamme Questo proprio per bruciarli E distruggerli completamente Comunque Ciascun Vostro personaggio Che poi sono tutti quanti I personaggi speciali Presi da vari capitoli Hanno delle caratteristiche Caratteristiche che alla fin fine Sono l'equipaggiamento Che portano Il tiro armatura E la balistica Perché magari Un personaggio Uno Space Marine Della Death Watch Rispetto a un altro Magari questo tira due dadi Questo ne tira tre Poi magari cambia anche La gittata Perché alcune armi Hanno gittata corta Corpo a corpo Hanno gittata Da corpo a corpo Un contatto O magari un'arma Agittata lontana E più da cecchino O magari un lanciafiamme C'ha il classico Segnalino a goccia Per vedere insomma Tutti quelli colpiti Non da tiri armature E cose varie E ogni arma Hanno vari tipi di munizioni Quindi magari c'è Un tipo di munizione Che arriva a distanza massima Un tipo di munizione Per riuscire a sparare E fare buchi In corpo a corpo Insomma È abbastanza complesso Come equipaggiamento Non come regola Una cavolata Voi vedete Sulle schede Di ciascun Space Marine Ci sono i numeri Dei dadi Che dovete tirare E sopra il valore Che dovete Eguagliare O superare Per colpire Che ne so Se su due dadi C'è scritto 5 Vuol dire che Tirate i due dadi E andranno a colpire Col 5 o più Ovviamente Quando si va a sparare Addosso a un nemico Si va a misurare La distanza Quindi se la mia arma Tira soltanto A distanza breve Siamo agitata media O agitata massima Non posso tirare Mi devo avvicinare E se ti colpisco Di solito Tutti quanti Genestealer Muoiono Vengono uccisi Sentite lo schianto Vi preoccupate Sempre la stampante Invece Broodlord E Magus E cose del genere Magari avranno bisogno Di più colpi Per essere uccisi Stessa cosa I nostri Space Marine Che hanno Lo sapete Tutti quanti Le Space Marine Hanno una specie Di Tra 300.000 virgolette Fattore rigenerante Per curare le ferite E di solito Il turno Funziona così O almeno È diviso in questa maniera Prima azione Tutti quanti Le Space Marine Poi c'è Che fanno un'azione Poi ci sono I Genestealer Il culto E poi una seconda azione Delle Space Marine La seconda azione Può essere Una seconda azione Di attacco O due azioni Di attacco Una di movimento Una di attacco O due di movimento Quello di scegliete voi Potete sprecare Queste azioni Per guarire Di una ferita Perché quando Il vostro personaggio Verrà ferito Girerete la carta Dal lato opposto Dove c'è scritto Ferito E una volta Che il personaggio Subirà una seconda ferita La carta sarà rimossa Però Se voi riuscite A arrivare A turno successivo Potete tranquillamente Sprecare una delle vostre due azioni Per farlo appunto Rigenerare E per farlo curare Si curano da sole Hanno una specie di fattore Rigenerante Gli Astartes Le mappe Sono componibili Le mappe sono ovviamente Anche randomiche E la cosa bella Sono anche abbastanza Open source Insomma Tipo io ho visto Online Delle mappe Che ti può montare Un po' come ti pare Con delle avventure Fatte da altre persone Perché è un gioco Molto seguito È un gioco che Secondo me Il bello di questo Overkill Ricorda Molto da vicino Ed è la perfetta fusione Da una parte Fra Space Hulk E da una parte Con Space Crusade Star Quest Che sono i miei giochi Preferiti in assoluto Della GV Per quanto questa è Della Milton Bradley Vabbè Sempre roba Della Games Workshop E sì che è la giusta fusione Se vi piace Star Quest E da una parte Vi piace Space Hulk Però Space Hulk Lo trovate troppo lento Un gioco difensivo Vi dà noia La clessidra Al tempo Questo veramente Fa al caso vostro E ragazzi È veramente facilissimo In conclusione Questo Death Watch Overkill Che ribadisco Ma andatelo a chiedere Dovrebbe essere fuori produzione È Anche perché è uscito Da un po' di anni Saranno 5-6 anni Che è uscito È veramente Ragazzi È uno spettacolo È un gioco alla portata di tutti E mette in campo Le figure più iconiche Fondamentalmente Del Warhammer 40.000 Dell'ambientazione Che sono Da una parte La Death Watch Bellissimi Veramente bellissimi E da una parte I tiranidi Nel culto di Jane Steeler Che è un'altra figata disumana Perché insomma Rimanda A vecchi giochi Del passato E soprattutto È un altro tributo ad Alien Perché sono partiti Come tributo Ad Alien Ridley Scott Quindi è veramente Uno spettacolo disumano Ed è un gioco facilissimo Nelle meccaniche Che il regolamento Si spiega veramente In due minuti E poi dietro Ci avete anche Tutte le tabelle Che vi ricordano direttamente Cosa tirare I punti feritari mosti Ragazzi È una cavolata È preso il regolamento Di Warhammer 10 pagine Strappate 8 Restate 2 Questo vi è il regolamento Che dovete utilizzare Quindi fondamentalmente È una cosa che Il master ve la spiega Velocemente Perché ovviamente Era componente PvP Il gioco Non è un cooperativo Non ci sono regole Anche se non ho visto Opzionali Home rules Però è veramente Molto veloce Quindi consigliatissimo Io ringrazio ancora una volta La Gioco Libreria Semola Per averci offerto Questa copia Per la recensione E vi ricordo Se lo volete ordinare Primo link in descrizione In sovraimpressione Chiedetelo Se lo ha ancora E se è possibile trovarlo A Corrado Della Gioco Libreria Semola E al momento dell'acquisto Usate il codice sconto Coridan7 Tutto maiuscolo Per avere subito Un discount del 7% Su tutto ragazzi Su qualsiasi acquisto Su un colore Su un gioco da tavolo Su un board game Su tutto Usate sempre il codice sconto E per acquisti superiori A 70 euro Non ci sono nemmeno Le spese postali Le spedisce in 24 ore In tutta Europa Ordinate 7% di sconto Nel giro di due giorni Vi arriva a casa A volte anche Direttamente in 24 ore Quindi grazie di cuore E ragazzi Warhammer 40.000 GV C'è da di po' Spettacolo Ciao alla prossima